Allora siamo con Leopoldo Bottero, indipendenza a noi Veneto con Zaia. Siamo alle ultime battute di una campagna elettorale che è stata sicuramente lunga. Indipendenza a noi Veneto con Zaia è la frangia indipendentista che appoggia l'attuale governatore. Voi cosa vi proponete? Noi ci proponiamo di lavorare per l'indipendenza di questa nazione, il Veneto, in maniera democratica, progressiva e virtuosa, passando attraverso anche delle alleanze, quindi anche dei compromessi, quindi accetteremo tutti i passi in avanti perché servono per arrivare alla meta. Come dice il Presidente Zaia, il primo step sarà una forte autonomia che per qualcuno potrebbe anche essere il punto di arrivo, per noi è il punto di partenza. Ecco, tra gli altri temi quali sono le vostre priorità? Il Veneto di che cosa ha bisogno oggi? Ha bisogno di sviluppo economico, di solidarietà, di dignità e di indipendenza. Abbiamo bisogno di non spendere tutti i nostri soldi verso Roma senza ritorno. Noi abbiamo 21 miliardi di differenziale sulle tasse, cioè paghiamo 70 miliardi e riceviamo servizi per 49. Vorremmo disporre di questi soldi, visto che poi non vanno a risolvere i problemi di nessuno, perché la sanità del Sud, che costa di più della nostra, non è che brilli per grandi qualità. Gli amici del Sud fanno le gite, fanno il turismo sanitario e vengono qua per curarsi. Quindi vogliamo disporre di questi soldi per poter rilanciare l'economia, per poter risolvere tutti i problemi. Noi, se fossimo indipendenti, in tre anni saremmo la più ricca nazione dell'Europa. Saremmo una nazione del calibro della Svizzera, dell'Austria, della Danimarca, della Finlandia e potremmo aspirare a un'Europa dei popoli, perché adesso l'Europa con queste grandi nazioni non va da nessuna parte, non riesce a fare l'unica cosa che dovrebbe fare, cioè politica estera unitaria a beneficio di tutti, però abbiamo una commissione che decide il calibro dei cetrioli. Mentre quando abbiamo questa migrazione di popoli che arrivano dall'Africa, che sono un dramma e un bel problema, non viene riconosciuto come problema e la grande strategia è stata Sbusemoghi-Gomoni. Non mi pare che sia una grande pensata. Bisogna risolvere il problema alla radice operando anche sul posto. Sbusemoghi-Gomoni